Non impari mai, vero? Fuoco! Fuoco! Barra dritta! Fuoco! 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 Bene! Voglio proprio che tu assista. Finiteli! Non possiamo superare lì in velocità, né con le armi. Potremmo chiedere a loro di arrendersi, ma non so perché non credo funzionerebbe. Ci nascondiamo. Lì dentro. Fuoco! 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 ROTTA D'INSEGUIMENTO! ROTTA D'INSEGUIMENTO! FUOCO! È tenace, bisogna dargli ne atto! FUOCO! Ma signore, non possiamo addentrarci nel temporale! Qualcun altro? Qualcun altro vuole discutere gli ordini? Bene. Signore, questo potrebbe essere il momento giusto per parlare di un aumento… Sta zitto, Plashe! Eseguo, signore! AQUI! RALTTA D'INSEGUIMENTO! Dove sono? Non li troverete mai lì dentro Mi permetto di dissentire Continuate a inseguirli Penso io a qualcuno Arretti di banco! Lo sai qual è il tuo problema ragazzo? Che hai letto troppi libri e poi ci hai creduto Il coraggio, l'onore Tutti per uno Ma la storia non è scritta dagli eroi È scritta dai vincitori Ma la storia non è scritta dagli ero 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 Ma la storia non è scritta dagli ero